Steve Scalise dalla Louisiana è stato scelto dai repubblicani come prossimo speaker della Camera, dove il partito ha la maggioranza ma è profondamente diviso. Scalise avrà bisogno dei voti di quasi tutti i conservatori per succedere a Kevin McCarthy nell'incarico. Il deputato della Louisiana sta combattendo contro una leucemia ed è visto come un eroe per essere sopravvissuto a una sparatoria di massa nel 2017. Scalise non è considerato un erede politico di McCarthy e stromesso dai falchi per aver consentito il rinvio dello shutdown del governo.